Buonasera e bentrovati nella terza edizione del Tg6 che apriamo con la cronaca e con una possibile svolta per il caso del delitto di Nicola Bucco, il 53enne di Pescara ucciso con tre coltellate nella sua abitazione di via Leopardi il 14 novembre del 2012. Una lettera anonima recapitata il primo dicembre scorso ad uno degli avvocati dei familiari fornisce una serie di indicazioni su tre individui che potrebbero essere coinvolti nell'omicidio. I dettagli nel servizio di Alfredo Primante. Si riaccende una luce sul delitto per adesso avvolto nel più completo mistero di Nicola Bucco, l'operaio 53enne assassinato a coltellate nel suo appartamento di via Leopardi a due passi dal porto di Pescara il 14 novembre del 2012. Una lettera anonima recapitata il primo dicembre ad uno degli avvocati della famiglia Bucco fornisce una serie di indicazioni su tre individui che potrebbero essere coinvolti nell'omicidio. Nella lettera si fa riferimento a due persone molto alte residenti nella zona dell'omicidio che frequentavano sia Casa Bucco che il cosiddetto baretto, ovvero il locale del porto canale finito al centro delle indagini. L'anonimo indica anche una terza persona con barba e capelli lunghi, descritto come un tipo rozzo che, come gli altri due, avrebbe frequentato sia Casa Bucco che il bar. Su questa terza persona, inoltre, che ha scritto la lettera anonima, ha fornito un ulteriore dettaglio che potrebbe risultare molto utile alle indagini, cioè il luogo di lavoro, spiegando che da quando è successo il fatto non si è più visto. La lettera è stata recapitata in busta chiusa e dunque il primo passo degli inquirenti sarà sicuramente quello di cercare eventuali tracce e impronte che consentano di risalire al mittente. A fine novembre, in tribunale a Pescara, c'era stata l'udienza per discutere la richiesta di archiviazione presentata dal PM Gennaro Varone. Il GIP Nicola Colantonio si era riservato di decidere, ma a questo punto è possibile che le indagini vengano riaperte, accantonando così la richiesta della Procura Adriatica. I legali della famiglia Bucco, Alberto Faccini Caroppo ed Enrico della Cagna, si sono sempre opposti alla richiesta delle PM, denunciando lacune nelle indagini e chiedendo che venissero svolti ulteriori approfondimenti. False fatture attestanti l'esecuzione di lavori e l'organizzazione di corsi professionali per oltre 5 milioni di euro. E questa è l'accusa che ha portato all'arresto di un imprenditore marsicano da parte della Guardia di Finanza di Avezzano. I finanzieri hanno concluso una complessa indagine che ha guardato nei conti di alcune società romane operanti nel settore sanitario e in quello edile, specializzato in opere pubbliche e impegnato in particolare nella realizzazione della Metro C Capitolina. Le fiamme gialle alezzanesi hanno accertato che nel quinquennio 2010-2015 l'amministratore di una società marsicana ha emesso false fatture per l'importo complessivo di 5 milioni e 461 mila euro, consentendo l'evasione delle imposte la creazione di fondi neri trasferiti in conti esteri aperti in paradisi fiscali e in paesi oltre confine quali la Svizzera ed il Regno Unito. I militari hanno recuperato a tassazione un milione di euro di IVA. Continuano le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Pescara sull'omicidio di Jennifer Sterlecchini. Questa mattina nella villetta di Via Acquatorbida a Pescara sono arrivati gli esperti del Risti di Roma alla ricerca di elementi utili per accertare le responsabilità dell'ex fidanzato Davide Troilo. Servizio. Quello di oggi potrebbe essere il giorno della verità sulla morte di Jennifer Sterlecchini, la 26enne pescarese commessa e neodottoressa in lingue, uccisa venerdì scorso dall'ex compagno Davide Troilo, 32 anni, piccolo imprenditore nel settore degli ascensori, da lunedì pomeriggio rinchiuso nel carcere di San Donato dopo essere stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate nella colluttazione con la donna. Sulla scena del crimine in cui la coppia aveva convissuto per tre anni la villetta a due piani di Via Acquatorbida nel quartiere Fontanelle sono arrivati i carabinieri del RIS di Roma. La scientifica ha analizzato palmo a palmo sia all'esterno che all'interno dell'abitazione dove Jennifer era tornata a prendere le ultime cose per chiudere il rapporto con il compagno rotto poche ore prima e da cui non è più uscita viva. Gli investigatori continuano a non essere convinti della versione dei fatti resa la sera stessa del delitto da Troilo al PM Silvia Santoro e confermata nell'interrogatorio di garanzia di lunedì mattina al GIP del Tribunale di Pescara Antonella di Carlo che ha convalidato l'arresto. Per questo si continuano a cercare tracce e riscontri scientifici che possano supportare l'ipotesi di omicidio volontario mentre sotto analisi ci sono anche i cellulari dei due ex fidanzati. Troilo ha sostanzialmente raccontato di essersi difeso a seguito di una lite trasformatasi in colluttazione sfociata in tragedia quando la ragazza avrebbe afferrato un coltello con cui avrebbe ferito il ragazzo che poi l'avrebbe uccisa. Ci sono elementi però che stridono con questo racconto. La porta d'ingresso dell'appartamento chiusa dall'interno che ha lasciato fuori inermi sia la madre di Jennifer che l'amica che l'avevano accompagnata a fare il trasloco. Le due donne infatti hanno assistito impotenti alle richieste d'aiuto della ragazza cercando di sfondare a calci il portone e saranno testimoni chiave. Stesso discorso per il vicino di casa che ha dato l'allarme al 112 e che ha cercato in vano di entrare in casa. Il portone infatti stando alla prima ricostruzione dei fatti si sarebbe aperto solo dopo l'arrivo dei carabinieri troppo tardi per salvare la vita di Jennifer. Così come il racconto di Troilo, Marsi concilierebbe con le chimosi sul corpo della ragazza e con le coltellate più di una inferte alla ex fidanzata. Aspetti questi che saranno chiariti dall'autopsia all'obitorio di Chieti a cura dell'anatomo patologo Ilvo Polidoro incaricato ieri pomeriggio dalla procura di Pescara. Esame per alcuni versi decisivo per stabilire sia il grado di crudeltà dell'omicidio che quale delle coltellate sia stata quella fatale. Il post referendum e la scelta di porre la questione di fiducia alla legge di stabilità fanno saltare gli emendamenti alla legge di stabilità legati alle vicende della ricostruzione post sisma. Giorgio Alessandri. L'onda lunga del post referendum e delle dimissioni del premier Renzi si fa sentire anche in Abruzzo nel capoluogo. La necessità di approvare con voto di fiducia la legge di stabilità infatti apre scenari forse non del tutto inattesi alla vigilia della consultazione referendaria ma in pochi probabilmente si aspettavano che la situazione potesse precipitare così rapidamente. Con la fiducia alla finanziaria infatti saltano tutti gli emendamenti come spiegato dalla senatrice Aquilana Pezzopane legati al post terremoto in Abruzzo. Provvedimenti per gli uffici della ricostruzione fino alle proroghe per i precari dei comuni, la proroga del cococo e soldi per i sottoservizi nei comuni del cratere per l'equiparazione del salario degli dipendenti degli uffici speciali della ricostruzione. Ma non solo, la senatrice sostiene che con la fiducia salterebbe anche l'emendamento contenente i fondi per i bilanci dei comuni per sopperire alle minori entrate e alle maggiori uscite della ricostruzione post terremoto. Affermazione quest'ultima smentita da Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Come spiegano i portavoci del capoluogo Michele Malafoglia e Chiara Mancinelli, un emendamento in tal senso, ovvero con cui destinare fondi e bilanci dei comuni terremotati nel 2009, presentato proprio dalla parlamentare democrat, è stato dichiarato inammissibile nell'ambito della discussione del decreto legge sul sisma del centro Italia. Insomma, se fondi per i comuni non arriveranno, non sarà per colpa del post referendum e della fiducia sulla legge di bilancio e come ribadiscono i due esponenti di Fratelli d'Italia. Il governo deve rendere strutturali i contributi per le minori entrate e le maggiori spese, utilizzando una quota delle risorse già disponibili per la ricostruzione e assegnate di volta in volta con le delibere del Cipe, secondo parametri prefissati, e non costringere ogni volta i primi cittadini ad andare a Roma con il cappello in mano ad elemosinare ciò che spetterebbe di diritto. Malumori all'indomani del referendum costituzionale da parte del sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, esponente del nuovo centrodestra. Dopo l'appoggio al sì da parte del coordinatore regionale del partito, Federica Chiavaroli, ora il sindaco chiede una posizione netta di distaccamento dalla sinistra di Renzi e di D'Alfonso. In attesa delle evoluzioni dei prossimi giorni, quelle in cui si deciderà sul futuro del governo alla luce delle dimissioni di Matteo Renzi per la vittoria dei No al referendum costituzionale, si aprono nuovi scenari politici anche in Abruzzo. Se Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e Forza Italia festeggiano la vittoria popolare del No, a Chieti il sindaco di Primio chiede un incontro al coordinatore regionale del nuovo centrodestra, Federica Chiavaroli, che ha sostenuto il sì al fianco del Partito Democratico e oggi chiede di mettere in chiaro la posizione ricoperta per un centrodestra che non sembra più in linea con il resto degli schieramenti. Che il segretario regionale del partito, cioè il sottosegretario Chiavaroli, facesse campagna per il sì era ovvio, dico io, lei credeva anche nelle ragioni del sì e quindi è anche giusto che abbia fatto campagna per il sì. Il problema non è che ha vinto il no, comunque sarebbero andati i risultati, noi, io avrei chiesto al segretario regionale di rivedere alcune posizioni perché è evidente che il NCD, che per me si chiama nuovo centrodestra e non nuovo partito democratico, deve avere una linea chiara nelle proprie strategie politiche. Io sono uomo di centrodestra, vengo dalla destra e vorrei costruire insieme ad altri il centrodestra in Abruzzo e anche in Italia. È determinato e chiaro Umberto Di Primio, appoggiare il PD non è più tollerabile per un partito chiamato nuovo centrodestra che strizza l'occhio alla sinistra. Al termine del confronto tra Di Primio e Federica Chiavaroli potrebbe verificarsi una spaccatura ed un'uscita dal partito. E per quello che mi riguarda, se la sorte fosse vicina al centrosinistra, io non ovviamente parteciperò a quella nuova strada perché quella strada non mi appartiene per cultura, per credo personale e anche per valori che vengono espressi da quella sinistra rispetto a me. La mia non sarà un'uscita per entrare, la mia sarà un'uscita dal nuovo centrodestra se il nuovo centrodestra andrà a sinistra, ma sarà un'uscita per costruire qualcosa. Vedremo poi con chi, ma non ho bisogno di una casacca per fare politica, l'ho già dimostrato alle elezioni amministrative. Il nuovo centrodestra è il partito con il quale stavo, ma non è il nuovo centrodestra che mi ha fatto vincere le elezioni. E ora torniamo all'Aquila. I rappresentanti della lista Noi con Salvini chiedono le primarie per la scelta del sindaco e bocciano il sondaggio commissionato da Forza Italia. Rilanciano la proposta delle elezioni primarie, aperte a tutti, per scegliere il futuro candidato sindaco e salviniani al comune dell'Aquila, cheppure hanno già espresso il loro pretendente alla fascia tricolore, ovvero Luigi D'Eramo. Lo fanno alla luce del sondaggio commissionato da Forza Italia, in cui verrà attestata una rosa di nomi, tra lui l'ex sindaco Tempesta, l'imprenditore Gallucci, l'ex sindaco di Villa Sant'Angelo Biondi e l'ex manager dell'Asel Silveri. L'esito del sondaggio sarà determinante, forse, in Casa Azzurra per scegliere il candidato da proporre agli alleati di coalizione. Una scelta che non piace ai salviniani, forti anche delle indicazioni che arrivano da Roma, dove tutti i leader dei principali partiti di centrodestra, da Salvini a Meloni a Fitto, sembrano puntare sulle primarie. Se si vuole vincere e noi siamo convinti che si possa vincere e vogliamo vincere, non c'è altra strada che quella di chiedere ai cittadini aquilani chi deve essere e quale deve essere il programma per poter governare la città. Non ci interessano sistemi che ormai sono superati dalla storia, perché il sistema del sondaggio è un sistema che si utilizzava 15 anni fa e soprattutto perché non hanno più l'attendibilità di un dato scientifico. Sappiamo perfettamente che il sondaggio serve in realtà soltanto per indirizzare l'opinione pubblica e quindi non crediamo che abbia un elemento di certezza per quello che è il dato, ma solo la volontà di indirizzare e di dire forse è meglio tizio che è meglio gare per poi manipolarci l'opinione pubblica. Che le primarie siano una invenzione del centro-sinistra è cosa nota, ma per il candidato d'Eramo è possibile, qualora ci fosse la volontà, di individuare una forma che sia più consona ai valori e alla tradizione di centrodestra. Possiamo ripensare rispetto a quelle che comunemente vengono individuate come metodo appartenente alla sinistra, le possiamo caratterizzare con modifiche che magari appartengono più alla nostra cultura politica, ma credo che siano un passo necessario. Se Luigi D'Eramo vincerà le primarie, qualora Forza Italia decidesse di farle, ci aspettiamo che Forza Italia o anche le altre forze politiche che vorranno far parte della coalizione sostengano la mia candidatura. Con la stessa determinazione dico che se io dovessi perdere le primarie sarò il primo a sostenere insieme al mio partito, al mio movimento politico, chi ne è uscito vincente. Conferenza di fine anno all'Università di Teramo del Rettore Luciano D'Amico che ha snocciolato i dati del 2016 che pongono l'Ateneo tra i migliori piccoli Atenei italiani. Il Rettore ha parlato anche del tanto discusso progetto della Funivia per collegare il campus di Colleparco e di un suo ipotetico impegno politico alle prossime amministrative. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. 13 giornate di orientamento, 9.000 studenti delle scuole superiori coinvolti, 6 summer school, 1.611 nuove matricole per un incremento dell'8,3% e un'impennata di dottorati in larga parte provenienti dall'estero che la rende il primo Ateneo in Europa per attrattività. È l'Università degli Studi di Teramo che chiude il 2016 con questi dati confortanti. Studenti iscritti e immatricolati in crescita, il dottorato ha un risultato straordinario, primo Ateneo in Europa per attrattività dai paesi stranieri. Oltre 299 domande pervenute da laureati in Atenei prestigiosi e paesi altrettanto prestigiosi. Consolidamento dell'autonomia patrimoniale finanziaria su 42 milioni di totale di bilancio, 16 milioni sono fondi propri, fondi in qualche modo in autofinanziamento. L'Ateneo scoppia di salute. Nella conferenza di fine anno il Rettore D'Amico non ha solo ricordato i risultati raggiunti dal suo Ateneo ma ha anche voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe per quanto riguarda la realizzazione della funivia e la creazione del polo bio-veterinario con l'Istituto Zoprofilattico. Mi sembra che le richieste non abbiano trovato una grande accoglienza, non importa, andremo avanti lo stesso, andremo avanti da soli o ci rivolgeremo altrove perché i risultati conseguiti non possono essere vanificati con una politica di puro mantenimento. A me farebbe piacere che lo stesso sostegno delle istituzioni venisse riservato anche all'Università di Teramo. Mi spiace dover discutere di questioni marginali e di aver creato anche degli equivoci probabilmente per un mio errore di comunicazione, faccio un esempio per tutti, la collaborazione con lo Zoprofilattico, nessuna mania di protagonismo, nessun interesse a voler acquisire lo Zoprofilattico, è veramente lontano da ogni pensiero dell'Ateneo. Era un progetto di grande collaborazione, la realizzazione a Teramo dell'unico centro in Italia di sorveglianza integrata sulla salute animale, la sicurezza alimentare e le produzioni agroalimentari sostenibili. Non è stata accolta, il Ministro Le Lenzine mi ha spiegato che mancano i presupposti giuridici, ma questa cosa la sapevo benissimo perché se ci fossero stati i presupposti giuridici mi sarei rivolto al Direttore Generale del Ministero e non a lei. E poi la domanda di Rito sulla possibile candidatura del Magnifico alle prossime elezioni politiche, provocazione driblata magnificamente. E a proposito di dirigenza politica, forse si voterà presto, è possibile la sua candidatura? Ispiegabilmente nei nomi che si fanno per il nuovo Primo Ministro non c'è il mio, quindi tenderei ad escludere un impegno politico di questo tipo. Confartigianato Abruzzo continua a richiamare l'attenzione sulla stretta creditizia che sta mettendo in ginocchio le imprese artigiane abruzzesi. La Regione infatti ha gli ultimi posti in Italia in materia di credito. I prestiti alle imprese artigiane a giugno di quest'anno sono calati dell'8% contro il meno 5,8% della media nazionale, cioè 82 milioni di euro in meno rispetto allo stesso mese del 2015, dato che colloca la Regione al terz'ultimo posto della graduatoria nazionale, stessa posizione registrata a marzo. L'ammontare totale del credito concesso all'artigianato in Abruzzo è pari a 936 milioni di euro. I dati emergono da un approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto su un'indagine del Centro Studi della Confederazione Nazionale. I dati peggiori si registrano a Chieti al centottesimo posto della graduatoria nazionale, seguono Teramo, 94esima, e Pescara, 66esima, seppur con il segno meno e nonostante un lieve peggioramento registra il risultato migliore d'Abruzzo e uno dei migliori d'Italia, la provincia dell'Aquila, meno 1,3%, terzo posto della graduatoria nazionale. Il calo generalizzato di credito concesso alle imprese artigiane in Italia non risparmia neanche l'Abruzzo, commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco, è indispensabile da un lato che la regione ci dia garanzie e certezze sui tempi di pubblicazione del bando per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese abruzzesi per il tramite dei consorsi fidi, dall'altro che le banche riducano gli spread applicati, il tempo è scaduto, servono risposte e soluzioni immediate. Secondo uno studio nazionale, tra le 110 province italiane e quella di Chieti rappresenterebbe una eccellenza in termini di produzione di rifiuti pro capite e utilizzo delle energie rinnovabili. La classifica sulla qualità della vita di Lega Ambiente vede Chieti al 55esimo posto. Chieti presenta i risultati di un'indagine incentrata sulla qualità della vita e sull'ecosistema portata avanti sulle 110 province italiane, da un lato i parametri di Lega Ambiente, dall'altra quelli che puntavano a conoscere sparsi urbani, qualità dell'aria, smaltimento dei rifiuti e produzione dei rifiuti. Chieti è classificata al 55esimo posto, si trova circa a metà delle province italiane, ma i dati eccezionali provengono intanto dal sistema dei rifiuti. Siamo l'unico capoluogo anche in Abruzzo che, al contrario degli altri capoluoghi che fisiologicamente scendono negli anni la percentuale di differenziata, il Comune di Chieti invece l'ha aumentata dal 56% del 2015 a circa il 61% del 2016. Le eccellenze dello studio sono rappresentate dalla produzione di rifiuti che in un anno si riduce di 21 kg pro capite e quella sull'utilizzo di energie rinnovabili come pannelli fotovoltaici e solare termico. Esistono ancora nuovi standard da raggiungere secondo il Comune che pianifica già i passi successivi. Ogni abitante di Chieti pro capite annualmente produceva 526 kg a testa, nel 2015 ne ha prodotti 504. Questo significa che la vera raccolta differenziata parte proprio dalla produzione in meno dei rifiuti stessi. Se raggiungeremo, come dovremmo fare anche per le nuove normative e direttive europee, il 65% di raccolta differenziata, beh a quel punto ragioneremo con l'Ufficio Ragioneria per abbassare l'Atari. Valorizzare, promuovere e istituzionalizzare le birre artigianali abruzzesi è l'obiettivo della proposta di legge del capogruppo dell'NCD in Consiglio regionale, Giorgio D'Ignazio. Dare un'identità alle birre artigianali abruzzesi è l'obiettivo della proposta di legge presentata dal capogruppo del nuovo centrodestra in Consiglio regionale, Giorgio D'Ignazio. Nella legge è previsto l'utilizzo della definizione di birra artigianale abruzzese, l'istituzione della giornata della birra abruzzese e dei percorsi della birra, ossia itinerari strumentali alla valorizzazione e alla visibilità della birra e delle località abruzzese in cui si trovano le imprese del settore. Il testo prevede contributi economici della regione per azioni di promozione anche turistica delle imprese birrarie che aderiscono ai percorsi e per i processi di formazione professionale e culturale per gli operatori e gli addetti del settore. È una legge che è pronta, è già stata presentata, andrà presto in commissione e chiederò l'appoggio di tutte le forze politiche perché è un momento importante per i nostri produttori di birra artigianale. La birra artigianale abruzzese ha un grande momento di sviluppo perché rappresenta una delle più importanti in realtà a livello nazionale. Con questo progetto si vuole portare avanti una valorizzazione assoluta anche in termini di turismo, di agricoltura e quindi attraverso i percorsi della birra artigianale e quella che è la giornata della birra artigianale abruzzese. Presentato un volume edito dalla casa editrice Carsa sulle chiese d'Abruzzo, una vera e propria guida al patrimonio storico dell'architettura sacra. Buonamano, una pubblicazione che mancava nel panorama letterario abruzzese probabilmente? Ma noi come ben sapete, come casa editrice abbiamo creato una vera e propria infrastrutturazione culturale sull'Abruzzo, quindi questo patrimonio delle chiese così come gli altri beni esistono già nella nostra libreria. Questa guida mette insieme invece 60 chiese, quindi abbiamo fatto un'operazione, l'autore che è Maria Lucia Latini che ringraziamo ha fatto una scelta, una scelta che va per province e che va anche per ordini architettonici. Quindi il lettore si troverà in mano uno strumento utile, agevole, come può essere una guida, in cui attraverso 60 chiese può scoprire la storia straordinaria dell'architettura abruzzese. Non solo delle chiese, l'Abruzzo è proprio poco conosciuto agli abruzzesi, quindi la nostra opera è un'opera importante non solo di documentazione ma proprio per farla emergere. Per presentare la guida abbiamo chiamato due personaggi importantissimi, innanzitutto il professor Francesco Sabatini che è presidente onorario della Crusca abruzzese di Pesco Costanzo e Francesco Di Gennaro che è il sovrintendente. Ovviamente ci sarà con me che modererò l'incontro l'autrice che è Maria Lucia Latini e l'amministratore delegato Giovanni Tavano. Dove è possibile trovare la pubblicazione? In tutte le librerie dove normalmente sono distribuiti libri di Carsa, da noi qui e ovviamente anche sul sito internet www.carsedizioni.it. Inaugurato questa mattina il nuovo impianto sportivo polivalente della scuola primaria di Villa Raspa di Spoltore alla presenza del sindaco Luciano Di Lorito. Paolo Renzetti. Noi abbiamo puntato in questa consigliatura che ci troviamo al quinto anno, quindi quinto e ultimo anno a realizzare scuole e impianti sportivi perché pensiamo che la scuola in primis e lo sport possiamo costruire una società migliore dove i nostri ragazzi si formino con i valori giusti. È bene investire in questi settori, l'accoglienza è stata veramente bella, di uno spazio sportivo questo qui è la scuola di Villa Raspa necessaria, si attendeva pensi da 40 anni la realizzazione di un piccolo impianto come questo. Noi l'abbiamo fatto, ne abbiamo fatto uno a Santa Teresa e presto uno di questo tipo sorgerà anche nel capoluogo compreso la ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale, i cui lavori partiranno i primi di gennaio. Nel suo breve discorso abbiamo dovuto investire tante risorse sulla sicurezza di Spoltore e di tutto il comprensorio comunale, però abbiamo puntato anche altre risorse proprio destinate alle scuole. Assolutamente sì, il dramma è questo, che oggi la difficoltà di un ente come il Comune è la realizzazione a reperire risorse per la realizzazione di strutture. L'altro dramma forte è quella che è la manutenzione e i costi per mantenere queste strutture nella sua efficienza, quindi investire in videosorveglianza per proteggere appunto questi impianti. E ora apriamo la pagina dello sport e ci occupiamo subito di pescare. Prosegue la preparazione dei Biancazzurri in vista della partita di Crotone di sabato prossimo, o quasi certo il forfè di Campagnaro che potrebbe rientrare nella gara con il Bologna. In Calabria è possibile il rientro di Aquilani, i tifosi della Nord organizzano un pullman per seguire la squadra allo stadio Ezio Scida. Concentrato e determinato, il Pescara è più che mai al lavoro per preparare la sfida più importante della stagione almeno fino ad oggi. Senza voler caricare oltremodo la gara dello Scida non si può certo sottacere l'importanza della sfida con i Pitagorici che dopo un avvio di stagione completamente negativo sembrano aver preso le misure al massimo campionato. La vittoria con il Chievo e le buone prove offerte in casa con la Sampdoria e a Firenze e San Siro con il Milan parlano di un Crotone in crescita. Quanto basta per considerare la partita di sabato in Calabria? Molto difficile per i Biancazzurri. Difficile sì, ma non impossibile da affrontare come direbbe Massimo Oddo con 11 cani in campo. Il Pescara ha dimostrato di essere in ripresa. I secondi tempi di Roma in casa con il Cagliari hanno mostrato una squadra capace anche di far male agli avversari. A Crotone però bisognerà essere determinati per gli interi 90 minuti, sapendo che la squadra calabrese concederà anche degli spazi che il Pescara dovrà essere bravo a cercare di sfruttare. Sul fronte formazione Massimo Oddo confermerà per almeno 9 undicesimi la squadra scesa in campo domenica scorsa. Ballottaggio in difesa per una maglia al centro tra Fornasiere e Zuparic e nella zona centrale del campo fra Aquilani e Verre. I tifosi della Nord ed il club Pescara Rangers organizzano Pullman per seguire la squadra in terra pitagorica. E ora la Lega Pro con il Teramo che nel pomeriggio ha giocato e perso in casa contro la Maceratese. 1-0 gol partita di Palmieri in apertura al nono minuto. Una brutta prova del diavolo, un deciso passo indietro rispetto alla vittoria di Forlì. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella e a seguire lo sfogo nel dopogara del presidente Luciano Campitelli. Anche stavolta il Teramo fallisce l'appuntamento con la seconda vittoria consecutiva in campionato. Il Bonolis sta diventando davvero tabù per i biancorossi che cadono al cospetto di una Maceratese per nulla trascendentale ma ordinata e che mette sul terreno di gioco le qualità che ha. Giunti dunque salva forse la panchina ma in casa diavolo l'ennesima prestazione sconcertante in questa stagione e alle porte c'è la trasferta del Tardini di Parma senza lo squalificato Bulevardi. Il Teramo sembra partire bene col cross al settimo di Sales che ventola con la deviazione di testa rischia di far diventare d'incanto una clamorosa autorete. La doccia gelata però è dietro l'angolo e arriva dopo nemmeno 60 secondi. Diavolo schierato malinia difesa che subisce una ripartenza letale con Turchetta che trova sul palo più lontano la capocciata di Palmieri, precisa e imparabile per Rossi. Rata in vantaggio, Teramo subito chiamato a rincorrere. Sansovini all'undicesimo non trova lo specchio della porta calciando col piede meno caldo il destro ma è a metà tempo che forte deve superarsi. L'azione dei padroni di casa è tambureggiante e chiama prima Marchetti a fare muro su Sansovini prima della parabola liftata di Di Polo Antonio deviata in corner grazie ad un colpo di Reni. Dietro però la squadra di Nofri, balla che è una meraviglia. Al ventisettesimo De Grazia trova il corridoio verticale per Colombi. Rossi è costretto a chiudere la sala cinesca in maniera provvidenziale. Nofri cambia nell'intervallo fuori Bulevardi e Cericola per Peterman e Croce. Si passa in una mediana rumbo con Carraro ispiratore dietro le punte, Petrella e Di Polo Antonio mezzali. Ma le cose non migliorano affatto, anzi la mossa ha l'effetto di spaccare in due tron con il Teramo che per quanto ci provi si espone comunque a una serie di ripartenze che la maceratese però non sfrutta a dovere. Croce avrebbe sulla testa un pallone di platino, quello messo al centro dal solito, inesauribile Di Polo Antonio ma appoggia debolmente verso la porta e forte smanaccia la conclusione della punta. Dietro però i pericoli non sono tanti ma quando ci sono rischiano di far crollare il diavolo. Al 65esimo De Grazia da sinistra trova al centro il tappin di Colombi che sottomisura centra in pieno la traversa. Giunti dopo un po' si copre fuori l'autore del gol parmieri dentro Franchini per un più prudente ritorno a una difesa a 5. Nofri risponde con l'inserimento di Fratangelo Persales per un 3-4-3 da tutto per tutto che vacilla però nuovamente al minuto 85 quando Turchetta taglia l'area di rigore per Mestre che in scivolata sul palo opposto non inquarra la porta. Copione che si ripete al 91esimo quando Rossi è costretto agli straordinari per neutralizzare la botte in area di rigore di De Grazia. Finisce con la quarta sconfitta interna per un diavolo troppo brutto per essere vero. La classifica rimane problematica anzi le cose sembrano anche peggiorare col passare del tempo. Presidente che voto diamo al mercato estivo quindi un bel 4? Diamo un voto sicuramente non la sufficienza ma sicuramente sono stati portati giocatori che non ci hanno fatto la differenza e poi ne vanno a soffrire anche altri giocatori che oggi annaspano perché oggi criticare un tizio, un caio quando non c'è un'identità di squadra quindi sono veramente deluso e molto preoccupato però voglio dire ai tifosi che oggi criticare tizio, caio e sempronio la squadra creiamo solo grossi casini bensì se debbono criticare debbono criticare me stesso, debbono criticare me perché anche se involontariamente ho dato l'ok a tutte le operazioni fatte perché io rispetto i ruoli e quindi mi assumo tutte le responsabilità di questo disastro perché così è noi oggi dovevamo vincere e basta, non ci siamo riusciti ma non abbiamo avuto neppure la forza di poter creare, di fare e non ho visto giocatori che correvano, ho visto giocatori che cadevano io credo una cosa che i giocatori che non sono da Teramo dovrebbero alzare il dito e andarseno e chiedere scusa questo è quello che nella vita fanno i veri uomini e nel calcio deve essere questo quindi con la massima correttezza chi non è da Teramo alzi il dito e va via poi sicuramente troveremo noi i modi per poter cercare di fare certe decisioni ma voi ce l'avete vedere chiare? noi ce l'abbiamo, l'anno scorso abbiamo massacrato dopo due o tre giornate forte oggi forte c'ha 11 gol e penso che sia capocannoniere e se poi andiamo a vedere chi i giocatori avevano preso l'anno scorso a partire dal numero 1 al numero 11 vi rendete conto che forse il lavoro grosso fatto e quindi forse non ci serviva neppure il direttore sportivo nuovo era stato fatto ed era stato fatto un lavoro a medio-lungo termine purtroppo molte volte si chiacchiera tanto e bisogna ascoltare poco e lì forse ho sbagliato perché avevamo imbroccato la giusta strada e noi qui ci dobbiamo mettere in mente che dobbiamo anche saper aspettare finisce qui il TG6 che torna domani con l'edizione delle ore 14 sempre domani, giovedì 8 dicembre, sarà come una domenica quasi come una domenica per lo sport perché dalle ore 14.25 circa saremo in onda con Diretta Stadio per seguire le partite del campionato di Serie D e poi in serata dalle 19.30 c'è l'appuntamento con l'Abruzzo del Palone di Jacopo Forcella per i servizi, le immagini, le interviste delle partite del pomeriggio è tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte